Pronti per la giornata mondiale della B Ci siamo radunati qui allo Stadio Olimpico Per dare il calcio di inizio a un movimento di bambine e bambini che vogliono costruire un mondo di pace Per la giornata mondiale della B Hari Anak Kus Pandelung Jakarta hari KD 2024 per l'inspirazione per l'Hari Anak Sedunia I che dimostri di Paus Fransiskus. Grazie a tutti Grazie a tutti